Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIP-Li, dove per lavori ci sono 5 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Dal 9 giugno, inoltre, i nuovi treni regionali veloci effettueranno fermata anche a Empoli tutte le info sui nostri canali social. Sempre in FIP-Li, un km di coda per incidente tra Montelupo-Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. In A11, coda tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio e un collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!